voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio cari simblu ragusa carissimi amici radio ascoltatori un caro saluto a tutti voi da denise arceri abbiamo il piacere di avere oggi studio don giorgio chipinti direttore dell'ufficio per la pastorale della salute con lui parleremo dell'iniziativa promossa dall'ufficio per la pastorale della salute in rete senza rete dipendenza da internet e social network nei giovani si tratta di percorsi informativi e formativi di prevenzione destinati alle scuole medie superiori ma anche alle comunità parrocchiali bentrovato don giorgio chipinti e grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi sempre allora iniziamo proprio a parlare di questa iniziativa in rete senza rete come è nata l'idea di realizzarla da dove nasce l'esigenza di creare questa iniziativa questi percorsi informativi ci spieghi un po meglio premetto che io da già diversi anni seguo in modo molto approfondito i social network anzi mi ci sono messo mi sono messo in gioco anche per poter capire il meccanismo per poter capire quello che può essere dannoso quello che può essere un pregio sapete ogni cosa c'ha i pregi e i difetti però i social network così si rivelano spesse volte anche veramente con purtroppo delle attrattive poco piacevoli quello che mi ha portato un po a fare la scelta di mandare avanti questo progetto mi è scattato tutto quando ci sono state diverse morti di giovanissimi dovuti appunto a selfie mortali e da allora è scattato subito questa molla dico no noi non possiamo rimanere con le mani nelle mani mentre diverse vite e soprattutto di giovani proprio vanno a finire così cioè si va a sfidare la morte e si va a cercare qualcosa di irreale qualcosa che possa ottenere i famosi mi piace perché quando noi andiamo su facebook si parla sempre dei mi piace così come anche le visualizzazioni per la musica i click e tutte queste cose qua e allora da qua nasce questo progetto noi vogliamo dare attraverso questi percorsi più informazioni per quanto riguarda internet social network e nello stesso tempo anche formazione per poter usare meglio i telefonini e smartphone cellulari che poi se usati anche in modo sbagliato possono danneggiare anche gravemente la nostra salute in modo particolare la vista il titolo già ci porta a fare una prima riflessione in rete appunto insieme uniti ma senza rete ovvero staccandoci dal mondo virtuale parliamo del messaggio specifico che volete trasmettere iniziando proprio da questo titolo ecco il messaggio specifico iniziare da questo titolo è in rete purtroppo si sta molto tempo in rete però questa parola può assumere anche un significato diverso cioè in rete diciamo unione fra di noi cioè fare veramente più aggregazione come una volta si usava essere in rete i ragazzi andavano spesso fuori a giocare e quindi valorizzando anche le attività sane quindi vedete c'è questo doppio significato poi la ripendenza lo stare sempre continuamente in rete che purtroppo ci porta a staccarci un po dagli altri e quindi a isolarci perché abbiamo bisogno sempre di essere collegati con facebook con messenger mandare messaggini e così via avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa